Poi c'è la mentalità sulla Mosca, la mentalità della Madonna, mi piace mica tribularmi. Farlo con le dita, fare un po' quello che perdi, un po' quello che crozi. Poi ti viene il gatto, lo butti via un po' così. E ci viene il gatto per te. Poi hai un divertimento. Sì. Un divertimento della Madonna, eh. Prendere il pelo così, butti via tutto. Poi non ti stanno queste qua, vedi che sono già belle comunque a bari, no? Due giorni, a smaltassare. Il fatto che il cobra è un filo, tipo un filo di nail, del 60, piatto. Il tondo gira. Quello di piatto, per farlo girare, perché sai, se lo fai su... Arbrella. Arbrella. Per farlo su, ragazzi, non fa niente male. Poi lo aprivo tutto e allora ne facevo un pezzo così ogni mezz'ora. Coda inalzi. Sul movinello. Coda inalzi. Coda inalzi. Lui che non si trova più e... Coda inalzi. Però adesso chiedo... Chiedo... Non ho esperto. Una volta benicchi quella cosa lì, vedrà tutto. Eh, adesso non cacchio di niente. C'è andato la... Coda inalzi. Coda inalzi. Ah. Avevo una lista lunga così. Coda inalzi. 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 che differenza di modo di costruire di altre cose ti faccio un discorso un grosso così leggiamo che sono dei calci però ci danno ci danno che ci danno quando sono attalato per tirare via cose non avevo una decina dentro non ce n'era mica una che non fosse mancava quasi tutto ah mangiato mangiato facciamo il taggettino rosso vai 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 così ti devi imparare come si mi devi un dio lascio da qua dato quel nero e girò così e così ce l'hai bel fisso un po' di giri quando questo qua lo spingi in giù e questo qua lo tiri in su devi farle delle ghigliottine così se tu sei in molle con questo qua chiaro che non va fa elastico e non si rompe non so come faccia se parla bel tranquillo si 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 però soprattutto che qui sempre come la dorè andiamo un po' avanti fino a che si avanza proprio il tocchelin un po' di giri un po' di giri va sul figo si dai ho sudato freddo un po' di giri un po' di giri un po' di giri un po' di giri se agganzi in una certa maniera tu giri e ti fa il robino dell'alto ecco li vale tutti 50 si si su qua proprio lo metto su così questo qua proprio deve andare un po' indietro anche qua la sciancchettia e anche qua le mosche dei figli tanta roba è una Royal Bull Scotchman Cosman si è dissata da Rendina come lo dite